Ehi Bersani, Bersani, se al momento delle primarie non ti fossi intestardito di volersi essere tu il vincitore, per carità sei stato votato dal 60% dei tuoi elettori, però blindando un po' queste primarie, se avessi guardato più lontano, se avessi aperto le porte al vento dell'innovazione che portava avanti Matteo Renzi, non ci troveremmo nelle secche in cui siamo oggi, perché Matteo Renzi non solo portava avanti e porta avanti una visione innovatrice della politica, ma otteneva e ottiene il consenso di molti che finora hanno sempre votato altrove. E se ci fosse stato Matteo Renzi alla guida del PD, queste elezioni sarebbero andate molto diversamente. Il risultato di queste elezioni non avrebbe segnato quel trionfo del Partito 5 Stelle, del Movimento 5 Stelle. Queste elezioni non avrebbero segnato una così forte rinascita del PDL. La situazione sarebbe stata molto, ma molto più governabile. La situazione sarebbe stata molto, ma molto più grande, ma molto più grande, ma molto più grande. Grazie.